Mi presento magari un attimino brevemente prima di introdurre il dottor Felice Garzetti. Innanzitutto davvero benvenuti e benarrivati a questo pomeriggio, a questo evento molto importante dove avremo il piacere di sentire il dottor Felice Garzetti che presenterà l'associazione Mamre. Ho il piacere di introdurre e di fare un po' da chairwoman, chairman di questo evento, quindi No Profit Digital Week. Abbiamo con noi e parlerà il dottor Felice Garzetti che è il direttore dell'associazione comunità Mamre ed è responsabile della struttura sociosanitaria. Vi spiegherà poi meglio lui cosa fa l'associazione ma lo introduco. ha come scopo il perseguimento e la solidarietà sociale che si traduce nel concreto in un'attività in diverse strutture nel Bresciano, quindi in Regione Lombardia, nel settore socioeducativo, assistenziale e sociosanitario. Quindi l'associazione comunità Mamre gestisce numerosi servizi nelle diverse aree del disagio sociale, sia quindi ambito minori, sia anziani, sia disabili. Con questa breve introduzione lascio molto volentieri la parola al dottor Garzetti e ascolto volentieri insieme a voi la presentazione. Bene, vi ringrazio, ringrazio chi mi ha introdotto così in maniera molto gentile. Io in realtà sono responsabile di alcuni servizi di Mamre, non di tutta la Mamre, però oggi ho piacere di presentarvi la nostra associazione, che a breve tra l'altro si trasformerà in fondazione, visto probabilmente avete anche studiato i cambi che stanno avvenendo nel mondo statutario da onlus che cesserà di esistere a entri al terzo settore oppure in presa sociale. Bene, io direi che ho suddiviso in tre momenti questa presentazione. La prima parte vi parlerò un po' di Mamre, poi mi concentrerò per un periodo un po' più lungo su quello che è il ruolo dell'educatore all'interno dei nostri servizi per la disabilità, perché sono la maggior parte e infine mi lascio uno spazio dedicato anche a come avviene la selezione personale, quali sono le caratteristiche, le attese e poi anche un approfondimento magari grazie alle vostre domande. Io in questo momento non mi sto vedendo come visi, ma immagino che una platea mi stia ascoltando perché sono già all'interno della presentazione. Può andare bene questa scaletta? Per noi più che bene. Confermo che la platea è ben ricca, siamo in 77 in questo momento. Ah, molto bene. Non ci vede, ma noi siamo in ascolto. Allora, è chiaro che io porto avanti la presentazione, ma potete chiaramente farmi delle domande, segnarvele, farmele alla fine quando riusciremo lo spazio, oppure se è molto urgente mi interrompete e cercherò di offrirvi degli spunti. Allora, Mamre nasce dall'intuizione di un sacerdote che per noi è sempre stato anche un po' come un faro, una dimensione anche un po' profetica. Come molti hanno realizzato opere sin dal 1700-1800 e poi anche nel 1900, ovviamente. La nostra realtà nasce da una, non da un'idea, ma da un'opera di Don Pierino Ferrari, che è il nostro fondatore, ormai scomparso alcuni anni fa. Diciamo che è un sacerdote, a tutti gli effetti, però si è sempre occupato non solo dell'aspetto sacerdotale, ma è un aspetto molto umano e si è accorto che attorno a sé gli ultimi avevano bisogno di sostegni che in quel momento nessuno sapeva o poteva dare risposta. Perciò adesso semplicemente vi introduco in Mamre perché anche parlando del ruolo dell'educatore è bene che si capisca un po' la storia, questo è il mio punto di vista, per dove oggi riusciamo ad essere presenti. Perciò le opere è un incontro tra i bisogni e la risposta e perciò quello che ha fatto Don Pierino è quello di accorgersi, di vedere cosa capitava attorno a sé, soprattutto sugli ultimi, sui marginali, oggi li chiamiamo marginali, fermarsi, un altro motivo molto importante anziché agire in forma compulsiva, ma a meditare su cosa è giusto fare, interrogarsi, perciò qualcosa che attiene anche a me e non solo agli altri, come spesso può capitare di fronte ai bisogni, potremmo anche pensare che qualcuno prima o poi ci penserà a questo bisogno, lui no, lui si è dedicato e ha detto qualcosa tocca anche a me e poi rispondere. E da qua nasce l'idea della tenda di Mamre, una tenda abramica, ma dove è un angolo di terra rigoglioso, dove le persone possono trovare ristoro in estrema sintesi. Cercherò di andare veloce su questa parte, non per mancanza di rispetto, ma proprio perché voglio lasciare lo spazio a voi e entrare proprio nel dibattito sul ruolo dell'educatore. Perciò le finalità dell'associazione sono di solidarietà sociale e perciò in modo organizzato attraverso dei servizi. Non vi nascondo che ovviamente anche noi all'inizio, negli anni 70, negli anni 80, eravamo dei pionieri da questo punto di vista e perciò, come dire, abbiamo costituito dei primi servizi emergenziali che rispondevano ai bisogni in maniera indivisa e perciò accogliendo magari bisogni diversi concentrandoli in un'unica risposta residenziale. Poi via via si è capito ovviamente, ma passi importanti sono stati fatti anche dalla formazione che gli operatori, anche i primissimi operatori, hanno perseguito e perciò si è capito che era bene differenziare. Perciò queste sono, diciamo, le frasi di origine di trama spirituale che percorrono Mamre, ma che, come dire, in ogni caso ancora oggi appartengono un po' alla nostra operatività. E di fatti poi viene chiesto ad ogni operatore di riconoscere la dignità e l'unicità di ogni persona. Guardate, ecco quello che i valori che vengono un po' portati avanti, ve lo dico subito, sono molto laici. a tal punto che abbiamo spesso anche visto, verificato che anche gli studi di pedagogia, pedagogia speciale e psicologia, anche molto recentemente hanno riportato il focus sulla centralità, la dignità della persona. Anche al termine stesso, io mi occupo in prevalenza di disabilità, tutti i passaggi che ha fatto e per arrivare ad oggi a parlare di persone con disabilità, riporta il termine persone come prioritario e maggiormente significativo rispetto al suffisso disabilità, perché ovviamente appartiene a queste persone anche una componente di disabilità. Però riconosce la dignità e l'unicità di ogni persona. La considerazione che i familiari comunque sono risorse importanti anche quando la famiglia è completamente inadeguata. questo l'abbiamo proprio scoperto nel percorrere questi lunghi anni di assistenza. Sostenere la corresponsabilità, la partecipazione e l'umanizzazione degli interventi. Il termine umanizzazione delle cure rientra, in Regione Lombardia ne parlano dal 2005, prima no. Direi noi ci siamo arrivati molto prima, l'umanizzazione degli interventi e delle cure. dare un volto. Insediarsi nei centri di vita attiva, qua un altro tema molto importante, tutti i nostri servizi sono servizi collocati all'interno dei centri storici. Perciò abbiamo desiderato proprio, nelle vicinanze ai centri storici, abbiamo desiderato proprio costruire una base operativa che potesse connettersi con la comunità territoriale. A valorare la quotidianità, perché si parte da quello e dagli un valore, un valore aggiunto nella sua quotidianità non è la consuetudine, ma ha un valore soprattutto nel campo della disabilità, perché poi scorgeremo che la regola e il confine aiutano soprattutto chi non ce l'ha. Poi condividere con gli interessati i percorsi di cura, questo è molto molto importante anche nella disabilità, nella fragilità più estrema, è bene che la progettazione educativa sia fatta in partecipazione, in compartecipazione con tutti gli attori coinvolti nel processo e spesso ci si è dimenticato che fra questi attori c'è proprio il beneficiario degli interventi educativi. Bene, direi che questo pensiero è un pensiero che ormai consolidato anche in letteratura, diciamo il protagonismo della persona che riceve assistenza o cura è fondamentale. E poi valorizzare il volontariato non come sostituzione del personale, ma in quanto in quanto il volontariato potenzia le opportunità, è un plus fondamentale, arricchisce le relazioni, arricchisce appunto le opportunità non solo relazionali ma anche di intervento. Se ne siamo accorti, eccolo, poi io non so se farò una, riuscirò a fare una parentesi, perché questo periodo ovviamente sta cambiando la vita di tutti, anche la vostra che oggi non siamo in aula, siamo ognuno davanti al proprio PC e noi abbiamo avuto uno tsunami nei nostri servizi, nel senso che dal 24 di febbraio 2020 il mondo è cambiato e anche i nostri servizi sono molto cambiati, da servizi molto aperti nella dimensione comunitaria a servizi che sono diventati un po' roccaforti, soprattutto quelli della fragilità, della fragilità estrema un po' perché la norma ci obbliga a tutelare la salute in primis e un po' perché ovviamente l'interesse di salvaguardare la salute in questo momento qua è prioritario e ha preso un po' sopravvento, ma come dire mi piacerebbe un po' chiacchierare con voi su questo se ne avremo l'opportunità. E perciò i servizi di mamma resi sono poi un po' come ghiande che germogliano dalla quercia, si sono via via dipanati e adesso ne abbiamo direi parecchi, queste così semplicemente le aree di azioni sono la disabilità, i minori, il settore degli anziani e anche il settore della salute seppur abbiamo un interesse più relativo su questo aspetto. Questo è una slide che fa vedere i vari servizi e l'anno di nascita degli stessi, hanno tutti dei nomi molto particolari, avete visto, sono nomi biblici perché il nostro fondatore ha deciso così, come dire, dare un nome biblico che è comunque centrato su un pensiero che aveva per quel tipo di servizio. Un altro aspetto che forse non vi ho detto è che Don Pierino ma anche dopo la sua morte il servizio non ha mai cercato di ampliarsi ma ha sempre risposto dei bisogni che in quel momento il territorio non poteva o non era in grado di dare soddisfazione, perciò non abbiamo mai avuto la pretesa di ampliarci, preampliarci, non ha nessun significato, bisogna radicarsi nei territori e dobbiamo rispondere delle domande, perciò dove c'è un bisogno ci si riflette se siamo in grado di sostenerlo e di offrire quella qualità che ci contraddistingue. Qua brevemente una carrellata dei servizi, ok, ve li faccio vedere senza citarli molto, insomma sono degli edifici, però con delle date alcuni sono di proprietà, altri sono incomodato d'uso, gratuito, oppure in affitto, perciò avete visto servizi anche molto recenti, viene in mente quello di fronte a voi Gerusalemme che si è sorto nell'84 però nel 2008 si è dislocato in un nuovo edificio molto ampio all'avanguardia con anche i sistemi architettonici adeguati a accogliere la disabilità grave, gravissima. I servizi per i disabili sono la maggior parte come potete un po' verificare. Questo è sicuramente la struttura di maggiore rilievo, vi operano 77 persone, giusto per avere una dimensione, una residenza sanitaria e assistenziale per i disabili di cui io sono il responsabile. È situata a Villa Carcina. Oltre a questo abbiamo aperto anche degli alloggi protetti e poi è anche un ambulatorio per minori sulla comunicazione aumentativa alternativa. Questo è un servizio diurno, anzi un servizio proprio ambulatoriale neppure diurno. E poi infine l'ultimo nato è un mercatino solidale dove i nostri ospiti delle comunità sociosanitarie possono operare servendo il pubblico che affluisce, così abbiamo aggiungiamo due obiettivi, quello del riuso, perciò le cose che le persone getterebbero via noi gli diamo un nuovo valore, ma contemporaneamente e soprattutto diamo significato all'operato di alcuni ospiti, magari anche gravi, che in quel momento si rendono utili nella sistemazione degli oggetti, ma anche per chi è più capace nel dialogo con i clienti e nel fare un po' da commesse. Scusate, sto andando troppo veloce, mi date un rimando, può andar bene così come sto procedendo? Non ho nessun feedback, io procedo allora. Allora, attualmente oltre 170 operatori sono presenti nei servizi di Mamre, metà dei quali sono educatori professionali e fra gli educatori professionali abbiamo una suddivisione pressa poco 50 e 50, una metà sono di classe 18-19, voi siete di classe 19 università cattolica, classe 18 è l'antenata della classe 19, oppure abbiamo educatori professionali sociosanitari di classe 2. Ovviamente lavorano anche altri operatori, abbiamo medici, infermieri, fisioterapisti e operatori detti di assistenza, poi personale tecnico e amministrativo. La fotografia è molto recente e vi fa vedere la situazione attuale, qua è la residenza sanitaria, poi anche un breve filmato, magari posso anche più avanti riuscire a mandarvelo. In questa rappresentazione vedete gli operatori che sono in divisa e hanno la mascherina. Prima del 24 febbraio 2020, perché l'idea è quella di trasformare i nostri ambienti residenziali come casa degli ospiti, perché immaginatevi la loro permanenza è per la maggior parte di loro e per la buona parte della loro esistenza. Perciò la nostra idea è quella di trasformare questi ambienti nella loro casa, non e mai nella loro famiglia che rimane famiglia biologica o adottiva. Noi cerchiamo di trasformare in casa e per farli sentire a casa ovviamente tutti i nostri operatori erano vestiti normalmente, perfino gli infermieri e i medici non avevano la divisa. Bene, questo è stato uno dei cambiamenti che è portato dalla pandemia, siamo stati costretti a mettere le divise, mettere le mascherine e utilizzare molti sistemi di protezione e di prevenzione che sicuramente hanno modificato anche il nostro approccio all'utenza. Ecco, mi concentro un po' su questa residenza appunto perché l'esperienza un po' più ampia e completa che abbiamo è quella che può offrire anche a voi spunti di riflessione. Perciò è un servizio residenziale, l'RSD, che è nella rete di servizi sociosanitari, in Val Trompia appunto, e noi siamo inseriti nel contesto anche di ricerca offrendo il nostro contributo all'AIRIN, prima successa italiana per studio di disabilità intellettiva e molto più recentemente siamo confluiti in SIDIN che accorpa i pedagogisti, accorpa anche il ramo della psichiatria che si occupa della disabilità, ahimè molto sguarnito di persone competenti, purtroppo invece è così significativo. Perciò la centratura degli interventi nell'ottica della qualità di vita degli ospiti, questo è il nostro mantra, l'attenzione ai cicli di vita, anche questo è un tema molto ricorrente, vi faccio qualche esempio giusto per entrare, poi cercherò di essere un po' più esemplificativo, nel senso che l'attenzione ai cicli di vita Allora, noi abbiamo persone che vanno dai 18 anni ai 70 anni, è chiaro che la proposta che faccio di tipo educativo, assistenziale o partecipativo non può essere uniforme, indipendentemente dal fatto che magari la disabilità intellettiva porti il 70enne o 65enne a avere uno sviluppo mentale pari all'infanzia, alla prima infanzia, la dignità della persona prevede comunque che nella dimensione dell'adultità ci sia l'adultità anche nella disabilità, perciò l'attenzione ai cicli di vita vuol dire che le proposte devono fare attenzione anche a questa dimensione, non solo a livello, come dire, al 65enne non proporrò i disegnini con i fiorellini, a meno che non sia un suo preciso interesse, ma proporrò magari un'esperienza, il gioco delle carte o qualcosa di più adulto. Questo ovviamente parlo di esperienza di tempo libero, ma gli interventi sono molteplici parlando di servizi residenziali. E poi la logica comportamentale, contestualista ed ecosistemica, nel senso che questo ci accompagno come fattore di ricerca, di approfondimento, anche molto formativo, nel senso che la nostra logica è quella di valutare i comportamenti e dare delle risposte il più funzionali possibile. Ecosistemica perché non siamo un laboratorio, non possiamo lavorare in termini astratti o accademici, accademici, dobbiamo lavorare nei contesti dove operiamo. E perciò ecosistemica vuol dire che tutto l'ambiente, che sia esso relazionale, che sia esso un ambiente fisico, comporta diciamo delle attivazioni o disattivazioni rispetto all'ospite e agli interventi che dobbiamo fare su di lui o con lui. L'integrazione e la normalizzazione, integrazione nel territorio, normalizzazione, guardate bene come normalizzazione della persona con disabilità, ma normalizzazione delle proposte di vita che possiamo fare. Io immagino che voi tutti abbiate il desiderio di fare delle vacanze. L'estate, a parte quest'anno, che è un anno un po' particolare, il fatto che voi, se un anno non potete fare vacanza, qualcosa vi manca. Bene, allora la normalizzazione per noi significa, beh, cerchiamo di offrire anche a tutti i nostri ospiti che sono residenti delle esperienze di vacanza, perché questo è un'aspettativa normale delle persone. E poi l'organizzazione, perché sta alla base ovviamente di processi di qualità che vogliamo offrire con i nostri servizi. Allora, qua diciamo che poi io vi lascio delle slide, dopo le girerò in PDF, io credo che questa cosa sia assolutamente possibile. Vado un po' veloce su questi aspetti, perché ripeto, desidero lasciare un po' di spazio alla parola vostra e concentrarmi sul ruolo dell'educatore. Garantire il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari, perciò ovviamente una persona che è residente, un ospite che è residente, necessita prima di tutto di assistenza, perché immaginatevi, le persone che risiedono in una residenza sanitaria e assistenziale sono persone che hanno mediamente bisogni di sostegno molto rilevanti, a tal punto che per la buona parte di essi non potrebbero sopravvivere senza questi sostegni. E i sostegni che noi vogliamo erogare, dobbiamo erogare, sono molteplici, ma partiamo dai bisogni primari. Perché è evidente a tutti che io posso vivere una vita dignitosa e positiva, ricca, solo se gli aspetti dei bisogni primari sono soddisfatti, a partire no, da come sono ben nutrito, ho un vestiario adeguato, vivo in un ambiente confortevole, non rumoroso, un ambiente che mi soddisfa, se ho un problema di salute qualcuno si occupa di me e via discorrendo. E poi una grande differenza che io ho notato nella mia esperienza fra i servizi diurni e i servizi residenziali è che il servizio residenziale non può essere un servizio diurno ampliato, per intenderci. Non posso concentrare tutte le mie interventi della giornata nei termini di impegno e di sviluppo. E faccio l'esempio anche di me stesso, no? Ma potrei fare l'esempio di qualsiasi persona che conosco. Non c'è nessuno che vive dignitosamente se si occupa solo del lavoro. Le persone hanno bisogno anche di tempo libero, di tempo di svago, tempo di relazioni, tempo per se stessi, del sonno, del riposo, del corretto tempo dell'alimentazione, perciò ritmi sereni è fondamentale. E poi gradevoli condizioni di vita, ovviamente l'ambiente va curato. inoltre prestazioni pluridisciplinari, ovvero la complessità richiede risposte multidisciplinari. Finalmente anche la sanità se ne sta accorgendo in qualche intervento di natura sperimentale, ancora troppo sperimentale dal mio punto di vista. Diciamo che la persona con disabilità adulta spesso necessita di un pensiero che raccolga professionismi diversi e divergenti talvolta e assieme si possono costruire dei progetti, ma anche degli interventi che abbiano come dire messo assieme appunto le sensibilità e le professionalità differenti. ovviamente è una convivenza, voi immaginatevi che presso le RSD vivono 44 ospiti suddivisi in tre nuclei abitativi, perciò vivono in 15 ospiti in uno stesso ambiente di vita molto ampio, parliamo di 450 metri quadrati di nucleo con 17 operatori fissi che ruotano. Io sfido qualsiasi di voi, se vivere in una condizione del genere, ovvero in 15 più 17-18 operatori che mi ruotano attorno, non mi faccia andare fuori di testa, di solito potrebbe accadere così, per quello che una parte degli interventi è proprio come dire quello di offrire un ambiente che sia facile, easy da vivere, cioè un ambiente confortevole dove anche si insegna la tolleranza, la convivenza o anche l'assunzione delle regole, perché ovviamente non è che adesso in quel contesto, vi faccio un esempio, io vorrei mangiare alle 13.30, io alle 14, io alle 12.45 diventerebbe un po' insostenibile dal punto di vista organizzativo. Si tratta perciò di insegnare e far adottare alcune regole che sono necessarie per il mantenimento di una buona qualità di vita. Portare assistenza sanitaria di base specialistica, noi cerchiamo delle migliori risorse per dare risposte le più coerenti possibile e spesso si lavora anche molto in prevenzione, nel senso che la prevenzione riduce ovviamente l'insorgenza di patologie che sono talvolta ingravescenti, a volte nell'adultità o anche nella vecchiaia, si lavora invece anche dal punto di vista sanitario per ridurre gli effetti che comporta il decadimento psicofisico che di solito accompagna ovviamente tutti noi, ma talvolta nella disabilità adulta in maniera molto accelerata. E poi quello che è il punto 7 per noi è fondamentale, offrire opportunità di socializzazione e di inclusione sociale. Per noi è fondamentale questa dimensione. Direi che l'organizzazione è importante, ovviamente ci sono vari fattori che la determinano questa organizzazione, le potete leggere senza che io li citi diciamo in questa slide, mi sembrano parole che per gli studenti come voi siano parole molto chiari, molto familiari e diciamo non necessariamente nuove. Ecco direi che una buona organizzazione è la base di un funzionamento di qualità. Vi ho presentato l'organigramma, giusto per capire anche la complessità degli apicali che lavorano in questi contesti, perciò qua semplicemente sono i servizi della RST firma Tommaso, di Villa Carcino appunto, con le persone che attualmente rivestono dei ruoli apicali e che permettono perciò che la macchina organizzativa funzioni al meglio possibile. Immagino che anche per voi non sia niente di nuovo la dimensione delle riunioni di equipe multidisciplinari, nel senso che noi offriamo l'opportunità a tutti gli operatori di due equipe settimanali che sono fra la fine del primo turno, la mattina e l'inizio del turno pomeridiano e sono equipe multidisciplinare perché ovviamente vi partecipano i professionisti che lavorano in quel nucleo più afferenti tipo infermieri qualora sia necessario il medico ma anche lo specialista, fisioterapisti e quant'altro. Sono condotti da educatori che sono i responsabili di nucleo. Ecco nel senso che un altro elemento che vi voglio portare alla vostra attenzione è che la vocazione della nostra RST è fortemente pedagogica, io stesso sono un laureato in scienze dell'educazione e perciò la mia estrazione è educativa e non come altre strutture dove potrebbe essere di natura giuridica o di natura economica o perfino sanitaria, così come tutti i coordinatori sono educatori e questo la dice lunga rispetto alla quantità e qualità degli interventi educativi che noi vogliamo portare avanti. E poi la formazione del personale è di natura specifica, ovviamente durante l'anno offriamo molta formazione al nostro personale, cerchiamo di attingere fra quella che in quel momento diventa la migliore risposta ai bisogni, interpelliamo ovviamente il personale rispetto anche ai loro specifici bisogni, offriamo agli operatori la possibilità di effettuare corsi di formazione esterni alla nostra associazione, riconoscendo loro quasi nella totalità le ore di formazione come ore di lavoro. E poi c'è la formazione obbligatoria, come immagino voi sappiate già. Abbiamo recentemente anche introdotto nel settore della disabilità la supervisione d'equipe e stiamo riscontrando dei buoni risultati, ci sembra un'arma importante per permettere i gruppi di lavoro di fare una buona manutenzione, nel senso di tenersi collegati al dato professionale ma anche al dato umano che emerge ovviamente con tutto il suo portato, emozioni, sensazioni e bisogni. Ecco diciamo che le comunità che mediamente hanno 7-8 operatori, per lo più educatori e l'RSD sono due mondi abbastanza diversi da questo punto di vista. Nelle comunità la flessibilità operativa è molto più spiccata, nell'RSD l'impostazione organizzativa è prevalente, ma ciò non toglie che dobbiamo lavorare in un contesto dove non solo il benessere dell'ospite è significativo ma anche il benessere dell'operatore è molto importante. ma qua non sono io certo a dirvelo, immagino che lo sappiate già ma io ne ho la riprova che se l'operatore vive o opera in un ambiente confortevole, un ambiente che lui riconosce come un ambiente degno dove poter operare con anche un certo senso di appartenenza, a cascate e i risultati sono interessanti anche per l'utenza. È facile immaginarsi queste cose qua. Pensate noi stiamo adottando anche un percorso molto intenso di mindfulness per i nostri operatori, per un nucleo in particolare, che è un percorso che dura parecchi mesi, è proprio un'offerta che diamo ai nostri operatori in tempo di lavoro, per poi arrivare alla supervisione, nel senso che cerchiamo di dare a loro degli strumenti di prevenzione anche dello stress e del burnout perché il nostro lavoro, il lavoro di cura ci porta al di là di questo incredibile periodo pandemico dove lo stress si è amplificato, diciamo che lavorare con le persone nella cura, nell'assistenza nei modelli educativi comporta sempre un margine di stress, è un lavoro ad alto potenziale stress, perciò dobbiamo prevenire e sostenere gli operatori in questa dimensione. Adesso sono perfettamente sì le tre e pochi minuti, io vi illustro quali sono le funzioni che abbiamo scritto per gli operatori che lavorano nell'RSD, qua vedete alcuni esempi di una festa, l'educatore professionale è un operatore con titolo specifico, perciò questo è il primo elemento, non possiamo, non vogliamo assumere nessuno che non sia e non abbia adeguato titolo di studio. Le sue funzioni sono, collabora nell'assistenza di base dell'ospite, questa è un'altra nostra caratteristica che deriva da un modello comunitario, perciò prima sono nate le comunità, sin da 1975 e poi è nata l'RSD, perciò per noi l'educatore è colui che si occupa anche dell'assistenza di base dell'ospite, anche con i compiti diciamo vicarianti ma anche sostitutivi, ovvero disabilità grave, prevede per esempio i nostri turni di lavoro per l'educatore sono dalle 7 alle 14, dalle 14 alle 21, quando l'educatore arriva in turno e assieme a altri tre colleghi nei nuclei, ci sono in 4 per turno con 15 ospiti, cosa fa? O dopo aver letto le consegne ai diari degli ospiti si occupa del risveglio dell'ospite, e dell'assistenza nell'igiene, esattamente come fanno gli operatori ASOS. Abbiamo desiderato, scelto di non distinguere queste funzioni perché fondamentalmente crediamo che un buon educatore sia colui che conosce profondamente la persona con disabilità, anche dal punto di vista corporeo, che lo assiste, che lo accudisce e con la disabilità grave, talvolta questo è uno spazio anche relazionale. Con la disabilità grave che è abbinata a comportamenti e problema, l'educatore è colui che conosce delle strategie, ha degli skill, sa intervenire, offrendo diciamo una soluzione il più possibile praticabile, in modo che un funzionamento o un disfunzionamento diventi un funzionamento o un parziale funzionamento, ovvero ci possono essere persone oppositive, resistenti, ospiti magari alla fase dell'igiene, ma l'educatore con delle strategie che sono ovviamente accordate, inserite nel progetto, accordate con i colleghi, è colui che ha delle competenze in più per poter operare interventi educativi anche in questo contesto. Vi prego di fermarmi se non sono chiaro, se sono troppo veloce o troppo didascalico. Mi piacerebbe avere un ritorno se per caso le mie parole non vi interessano o sono così, diciamo, non motivanti. Prego, c'è qualcuno che vuole intervenire? Per ora è tutto chiaro, ho una ragazza che ha fatto una domanda, ma se è d'accordo possiamo porle nel momento finale che ha ipotizzato a seguito della sua presentazione. Va bene? Cercherò di dedicare almeno 20 minuti al momento delle domande, se lei è d'accordo. Benissimo, grazie. Io vedo che stanno scrivendo, ne prendo nota e dopo chiedo ai colleghi di poter prendere la parola liberamente oppure mi farò portavoce io delle loro esigenze. Ottimo. Allora, poi grazie a lei. Allora, il secondo punto, le funzioni dell'educatore è il programma, organizza, gestisce e verifica gli interventi. Guardate che la verifica non è secondaria a nessuno perché è inutile intraprendere tante azioni senza la fase della verifica. La fase della verifica è fondamentale perché solo lì si possono verificare se gli interventi spesso pensati su delle ipotesi hanno dei funzionamenti utili all'ospite oppure no. Ecco, perciò è molto importante questa rilevanza della dimensione della verifica. Cura e tutela la salute psicofisica dell'ospite? Ovviamente nelle comunità sociosanitarie è direttamente interessato perché ovviamente non essendoci personale sanitario specifico è colui che sostiene l'ospite, si accorge della sintomatologia e presenza alle visite mediche, ma anche durante l'RSD le visite specialistiche vengono sempre effettuate con l'accompagnamento dell'educatore. E' colui che per esempio si accorge se l'ospite presenta qualche anomalia di funzionamento rispetto al funzionamento della sua salute, della sua condizione di salute e perciò ne parla con gli specialisti in modo da affrontare il problema nei termini più velocemente possibili. Poi ovviamente questo partire molto al mondo educativo è quello dell'assessment, della valutazione funzionale, perciò per noi è molto articolata, noi per ogni progetto abbiamo una serie di strumentazione diagnostica molto ampia e anche quella educativa è molto molto ampia, perciò gli educatori compilano scale di valutazione con una frequenza che è data dalla progettazione. Alcune scale di valutazione sono compilate semestralmente, altre scale di valutazione sono compilate ad ogni rinnovo progettuale che ha un percorso pressa poco di quadriennale. Vi cito alcune scale di valutazione, forse vi sono note, altre no, ma non è così rilevante che in questo momento voi le conosciate, comunque sono i CF, la Vineland 2, la SIS, la SVARM, la POS e poi ci sono diciamo molte altre scale di valutazione, la Bartell Index, la TINET che attengono a professioni collaterali rispetto all'educatore professionale, ma di cui lui ne ha consapevolezza. Ovviamente collabora lo studio a definizione del profilo funzionale del progetto di intervento educativo assistenziale. Questo è l'elemento fondamentale che contraddistingue l'educatore, è l'educatore che è inserito nei turni in quel momento, si compie un piano di lavoro, perciò non è in grado di mettersi al PC, se non per fare diciamo il data report che è necessario per il funzionamento del turno, perciò noi offriamo agli educatori 10 ore mensili che lui sceglie quando svolgere presso la nostra sede, davanti a un PC fuori dal nucleo e fa attività in diretta, ovvero si occupa della progettazione vera e propria per tutte le loro fasi, perciò la costruzione del progetto eccetera. L'ossatura del progetto la svolge l'educatore professionale, sostenuto quando è ancora nelle prime fasi del suo operato dal coordinatore che dà un grosso sostegno, ma poi anche in, come dire, quando diventa competente anche in autonomia e da questo punto di vista diciamo noi permettiamo ai nostri educatori di crescere molto dal punto di vista professionale perché dopo qualche anno che operano da noi sono in grado di effettuare dei buoni progetti in linea con le migliori tradizioni pedagogiche che attualmente sono presenti direi nel mondo. E perciò questo è, come dire, cito le ultime introduzioni, l'assessment delle preferenze, ovvero una valutazione specifica delle preferenze dell'ospite e perciò con degli strumenti anche valutativi e diagnostici che ci permettono di valutare anche nella disabilità grave o profonda quali sono le preferenze attraverso la somministrazione di stimoli per esempio, oppure la prevenzione di insorgenza nei persone più anziane di malattie dementigene attraverso la somministrazione di scale di valutazione. Questo le fa sempre l'educatore per intenderci il livello di professionalità che noi abbiamo chiesto. E poi cura molto l'inclusione sociale degli ospiti sul territorio, tema fondamentale per la qualità di vita. Immagino che nessuno di voi voglia vivere in quattro stanze, seppure dorate. Tutti noi stiamo soffrendo di questa zona rossa, di questo lockdown, cioè immaginate per la vita delle persone, anche disabili gravi, hanno le stesse nostre ambizioni e necessità e perciò significa che queste persone desiderano uscire e andare a mangiare una pizza, a prendere una birra, andare al cinema come lo facciamo noi con i nostri amici, con i nostri fidanzati o con le nostre mogli o mariti o figli per chi ne ha. Predispone e perciò si occupa anche delle attività con tutti gli interventi collaterali, accompagna gli ospiti durante le uscite, perciò i nostri operatori non sono dentro la struttura sempre, ma svolgono attività anche all'esterno, ovviamente per accompagnare gli ospiti. Poi facciamo anche come vi dicevo prima dei soggiorni estivi o anche infernali, questi hanno stati un po' più ridotti per la pandemia, ma mediamente a tutti i nostri ospiti offriamo l'opportunità di vivere esperienze con soggiorno esterno, la struttura per la dimensione, i luoghi di villeggiatura per la dimensione ovviamente che appartiene alla bellezza delle vacanze. Questi rapporti con i familiari, soprattutto quando il coordinatore non è presente, ma ovviamente che durante la settimana ci capitano le telefonate, visite, rientri in famiglia e perciò cura anche questi aspetti con la dimensione sempre dell'attenzione e che anche nel processo di cura un po' il familiare entra e trascurare questa dimensione è completamente errato e spesso vanifica gli interventi educativi. Mai e poi mai un educatore deve sminuire o svilire la presenza del familiare, anche quando la famiglia è inappropriata, inadeguata. I legami di sangue familiari sono radicati profondamente in tutte le persone e perciò una dimensione di collaborazione della famiglia è necessaria e non è erudibile. e poi partecipa agli incontri formativi, un po' come forse vi avevo già detto prima, partecipa alle verifiche e sarà l'educatore stesso che espone il progetto e la relazione progettuale ai servizi sociali della SST e del comune e alla famiglia o al tutore, diciamo nominato dal tribunale. Ovviamente agisce nel rispetto delle norme. Fa la gestione dei soldi degli ospiti, che ogni ospite ha una dotazione diciamo economica, gli serve per gli svaghi e per i beni di prima necessità, se ne occupa bene l'educatore. Apporta modifiche alla programmazione giornaliera quando il coordinatore non è presente, in base anche magari a condizioni di necessità. Fornisce informazioni utili al volontario, noi avevamo un'ottantina di volontari, ce li abbiamo tuttora, però dal 24 febbraio più nessun volontario ha potuto entrare, ahimè, nella nostra residenza e mi auguro che prima o poi questa cosa avvenga. Certo non è brevissimo periodo perché questa pandemia ci sta un po' attraversando, ci sta un po' cambiando, ma torneremo certamente a una condizione di qualità di vita migliore. Puoi ricevere la delega facente funzioni dal coordinatore per tutti o per alcuni aspetti che riguardano proprio l'esperienza del coordinatore. Ecco direi che per quanto riguarda lo schema di funzioni dell'educatore professionale, vi ho offerto una panoramica che guardate bene, ho preso proprio gli aspetti inerenti a funzioni gramma che noi offriamo ai nostri educatori. e questo è adesso arrivo a ciò che diciamo forse interessa per la maggior parte voi, ma credo, spero che sia stato interessante anche i punti precedenti. Ecco, noi assumiamo parecchi operatori durante l'anno, spesso ci sono delle sostituzioni perché la persona magari si dimette, cambia servizio, oppure possono esserci sostituzioni personali perché ci sono delle maternità o periodi magari di malattia lunghi e allora o anche per le ferie estive assumiamo del personale e assumiamo del personale educativo. Come si svolge questa azione di selezione personale? Innanzitutto leggiamo tutti i curriculum che arrivano. Quando abbiamo bisogno di personale e non abbiamo curriculum a sufficienza, mettiamo un annuncio su Informa Lavoro. Però quando riceviamo i curriculum noi li analizziamo tutti per pertinenza, quelli non pertinenti li scartiamo immediatamente, ovvero mi arrivano moltissimi curriculum da psicologi, ma io lo psicologo non posso assumerlo, non posso e non voglio assumerlo al posto dell'educatore perché è una professione diversa, l'educatore per me deve essere l'educatore, lo psicologo deve fare lo psicologo. Io ho bisogno di educatori perciò seleziono solo quelli. Ovviamente quando ho una necessità apro la selezione vera o propria, a partire dai curriculum arrivati, facendo attenzione anche all'ordine di arrivo in quanto curriculum molto datati spesso l'operatore ha già trovato una risposta lavorativa differente. Effetto proprio personalmente un primo contatto telefonico per valutare l'interesse e se la persona interessata propongo sempre una, perciò gli dico guardi che si tratta di lavorare a Villa Carcina, dipende anche dove abita la persona, si tratta di essere automuniti perché arrivare alle 7 di mattina e andare via alle 10 di sera o alle 9 di sera, aspettare l'autobus è un po' improbabile, si tratta perciò di avere un'autovettura, essere disponibile a fare i tour di alcuni, mi dicono ma io non voglio lavorare sabato o domenica, beh allora in questo caso questo posto di lavoro non fa per te, perciò una volta sondato che ci sia una compatibilità e un interesse reciproco fisso un colloquio di valutazione e il colloquio di valutazione è con me, il responsabile di struttura è con un coordinatore. Adesso vi mostro quali sono le mie aspettative, le aspettative dell'azienda rispetto a colloquio di valutazione così se vi capiterà venite preparati. Un titolo di studio adeguato senza il quale non è possibile pure introdursi e poi competenze specifiche sulla disabilità. Da questo punto di vista a noi non interessano né le referenze né tanto meno necessariamente l'esperienza di lavoro. Allora se c'è un'esperienza di lavoro compatibile, simile alla nostra, benvenga. Se anche la persona però diciamo è neolaureata e non ha esperienza di lavoro, bene non è sicuramente un ostacolo. Però in questo contesto valutiamo le attitudini e la volontà all'apprendimento perché significa che quella testa deve essere formata su un modello educativo che noi stiamo adottando. La riflessione che faccio sempre è che talvolta è più difficile destrutturare delle teste già preformate che non modellare come dire un primo approccio lavorativo. Abbiamo avuto moltissime soddisfazioni da neolaureati, moltissime, nel senso che è diventata una dimensione nella quale la persona si è trovata subito ad agio e perciò ha appreso le competenze, non le aveva competenze specifiche. I modelli universitari danno delle competenze ovviamente anche nel settore della pedagogia speciale per intenderci, ne sono assolutamente consapevole, ma mai potranno entrare diciamo nella finezza della disabilità adulta residenziale con tutti i modelli educativi del caso. Chiediamo la flessibilità e maturità operativa, ovvero la flessibilità vuol dire che in quel momento all'operatore è richiesto tutte le funzioni che vi ha chiesto prima, che ho esplicitato prima, perciò è richiesto la disponibilità anche a fare l'assistenza primaria all'ospite, l'assistenza di base, l'igiene, l'imboccamento, la vestizione, l'allettamento. Se non c'è questa flessibilità, ci salutiamo a questo primo colloquio, è stato un piacere conoscerci, ma anche la maturità operativa, sei una persona in grado di portare a termine gli incarichi che ti vengono dati, oppure cominci mille cose e non ne finisci neanche una, ci sono anche dei tempi corretti di lavoro. Ma chiediamo anche una flessibilità e maturità psicologica, flessibilità perché bisogna sapersi adattare alle situazioni residenziali che in quel momento il contesto ci pone davanti. Io credo che questo qua sia un tema ormai trasversale a tutto il mondo del lavoro, soprattutto nel campo educativo, la flessibilità psicologica, cioè la capacità di avere un pensiero ampio, modellabile e che possa, come dire, modificarsi rispetto ai contesti è fondamentale. Ma anche la maturità, sono in grado di assumersi delle responsabilità o sono una persona sempre che non vuole mai assumersi delle responsabilità. Nel campo educativo assumersi responsabilità è fondamentale. Poi ci possono essere anche i correttivi quando una persona sbaglia e grazie a Dio si può sbagliare. Guardate, nella mia esperienza i migliori apprendimenti li ho fatti quando ho sbagliato. Cioè sbagliare non è mai un peccato, purché l'errore sia poi seguito da una fase di riflessione di critica corretta che ti può venire anche dalla tua collega o dal tuo superiore o di autocritica, meglio ancora, e di correzione. Benissimo, benvenga la possibilità di sbagliare. Però se una persona non si assume le responsabilità per non sbagliare, io penso che non debba fare educatore, in genere. Attitudini personali e lavoro in relazione è fondamentale. Guardate, è un mantra che ormai ci appartiene da tanto tempo e che anche Don Pierino aveva visto bene, lui pensava come due bracci. L'uomo è professionista, devono stare assieme. Non bastano delle doti personali ottime. Cioè io sono molto competente nella fase relazionale. Questo per noi non va bene, perché se non ha attitudini, competenze operative, non è completo. Ma non è pure completo una persona che si veste col vestito del professionista e non ha minimamente una capacità empatica, capacità di relazione e pensa di svolgere bene il suo lavoro. Ahimè no, l'educatore è composto di molteplici, ma trascurare la parte personologica è assolutamente errato. Cioè la parte personologica è fondamentale nella strutturazione dell'educatore. Perciò noi nel colloquio valutativo facciamo molta attenzione anche alle attitudini personali. alla capacità di relazione, a come si pone la persona, anche nei nostri confronti, i racconti che mi fanno, dalle sue esperienze. E poi quello che io chiedo sempre, nel senso che, allora, lavorare con l'utenza fragile, che dipenda da te completamente, se tu non provi una certa interesse, motivazione o benevolenza, è bene che davvero tu cambi lavoro. Ma assolutamente, amici come prima, ma l'interesse, l'attenzione, la benevolenza, la voglia di rendersi utili è fondamentale. Fondamentale perché altrimenti, per due ragioni, prima di tutto il tuo lavoro diventa di una noia mortale. Non riesce neppure a percepire la gratitudine, che spesso è implicita, che le persone restituiscono quando ricevono anche degli interventi educativi. Ma le puoi vivere anche con fastidio. Le puoi vivere anche con nervosismo. Allora, chiariamoci, un bel esame di coscienza. Se ti interessa questo lavoro, ti interessa lavorare con queste persone, che sono a volte complicate da gestire, che magari non apprendono, o che magari regrediscono, o che magari non state tutti i tuoi sforzi, non fanno molti passi in avanti dal punto di vista sviluppo personale perché sono gravi alla partenza. Beh, se ti interessa, direi che questo è un ottimo posto dove lavorare. Ottimo. Questo è il primo colloquio, diciamo. Poi, se la prima valutazione è superata, e immediatamente lo sappiamo subito, proponiamo al candidato un turno di prova. Perché noi possiamo stare a parlare con l'operatore anche per dieci ore, ma è bene che lui si sperimenti, e perciò gli offriamo una possibilità di un turno di prova in affiancamento. Però così lui entra nei nuclei, vide come operano i nostri educatori e noi vediamo un po' lui, anche no? È un momento anche per vederlo, per osservarlo, come si pone in fronte delle utenze, in fronte ai colleghi. Se il turno di prova è superato, la valutazione tecnica è definita, chiusa. E si apre un colloquio di valutazione col presidente dell'associazione sulla condivisione dei valori della missione aziendale, nel senso che a noi non interessa la fede delle persone che operano con noi. Noi abbiamo avuto e abbiamo tuttora anche operatori di professioni diverse, operatori completamente atei, cioè non ci interessa questo. Ci interessa che sul piano umano ci sia la medesima condivisione valoriale. Quello che vi dicevo prima, io la centralità della persona, che ho tutto sopportato, la sua originalità, il valore della bellezza della persona, questi sono valori che sono molto umani. e se poi è superata, e guardate bene, mediamente è la valutazione tecnica quella che dà, diciamo, per lo più la possibilità dell'assunzione, poi assumiamo la persona. Una volta assunta, effettua quattro turni in affiancamento con un collega esperto, in modo da affrontare con più facilità poi, diciamo, le fasi di turno di lavoro, con il piano di lavoro, con me viene esercitato. Il contratto di lavoro è un lavoro su turni, sette giorni su sette, si lavora mediamente quattro giorni, due si riposa, a volte si lavora cinque giorni e si riposa due, a volte si lavora anche sei giorni, ma allora, nell'RSD si lavora quattro più due di riposo, perché è molto organizzato, nelle comunità si lavora anche su sei giorni su sette, perché il contratto un'eva lo prevede, in base alle dimensioni di funzionamento di quell'unità d'offerta. E assumiamo da subito l'educatore, il mio assunto, sempre nella classe adeguata, perciò l'educatore professionale, categoria 3S. Ecco, noi assumiamo la quasi totalità delle persone a tempo determinato, ma poi, quasi tutti, nei primi sei mesi di lavoro passano a tempo indeterminato, a meno che non sia proprio una mera e propria sostituzione, diciamo, di maternità o quant'altro, che in questo caso ovviamente ha un tempo determinato, perché è dovuto proprio alla tecnicità di quel contratto. Bene, mi sembro, sono in linea con quanto avevo pensato come tempo di esposizione. Mi è stato chiesto dall'università, io ho riportato quale domande alle quali non avevo ancora risposto e qua apro anche un dialogo con voi. Mi è stato chiesto la specificità del lavoro educativo, formativo, anche il rapporto educatore del socio sanitario. Allora, qua c'è stato, dal mio punto di vista, negli ultimi anni davvero il legislatore ha messo mani più volte nella dimensione dell'educatore, dormandolo, mettendo delle pezze, quando si è accorto di aver fatto degli errori grossolani. a volte le pezze erano peggio del buco e tuttora ci troviamo in una situazione paradossale, dove ci sono due percorsi formativi per gli educatori, che poi vanno a svolgere le medesime azioni. Le medesime azioni. Dal nostro punto di vista operativo non c'è nessuna distinzione fra l'educatore socio sanitario e socio professionale. Devo averli entrambi, nelle mie echipe, mi è richiesto di averli entrambi. C'è un vincolo che l'educatore socio sanitario si occupa di quegli aspetti propriamente riabilitativi, perciò noi quando nei progetti educativi abbiamo degli obiettivi che fanno capo all'area del benessere personale, l'area della salute, anche interventi di natura ovviamente educativa, il referente del progetto è un educatore socio sanitario di classe S2, per questo ci è imposto dalla vigilanza della TS, noi siamo un servizio accreditato con la regione Lombardia e perciò subiamo, subiamo, ma insomma aderiamo a molte norme che anche sui minuti assistenziali da erogare, sulla qualità degli interventi che dobbiamo adottare. E poi c'è stato anche tutto il tema delle liste speciali, esaurimento, insomma questo è un tema che se vogliamo dibattere dopo avremo il tempo, magari ascolterò anche le vostre riflessioni da questo punto di vista, sono anche curioso di sentirvi, ecco io dico che dal punto di vista operativo non abbiamo nessuna distinzione. devo avere necessariamente un educatore socio sanitario nelle mie equipe, mediamente abbiamo una suddivisione di circa il 50-50%, questa è la condizione attuale nelle nostre strutture, perciò il 50% circa provengono dal mondo come l'università cattolica, la scienza ed educazione, altri provengono invece dalla IAL con l'università di medicina di Brescia. La possibilità di sviluppo professionale interno, è un bellissimo tema, diciamo che gli attuali coordinatori o anche qualche responsabile di comunità proviene dal mondo educativo, anch'io stesso sono un educatore, perciò la possibilità di carriera interna è mediamente riservata a queste categorie, gli educatori che si contraddistinguono per estremamente per esperienze e per attitudini, quando c'è l'opportunità di un passaggio di livello viene eseguito questo in quanto diventano coordinatori di nucleo o responsabili di unità d'offerta. Perfetto, le opportunità per un laureato magistrale in progettazione pedagogica, come immagino nella platea che attualmente mi sta ascoltando ce ne siano. Devo dire che dal nostro punto di vista all'atto dell'assunzione non è un elemento fondamentale. detto ciò, se mediamente quello che mi accorgo io è che il laureando in magistrale ha delle competenze superiori dal punto di vista della padronanza linguistica e della padronanza degli strumenti di progettazione, perciò è facilitato nell'esposizione del colloquio, cioè lui stesso ha delle competenze in più e questo possono servirgli per presentarsi al meglio, così come quando poi deve affrontare i modelli educativi che deve apprendere ha maggiore freschezza e capacità di approfondire lo studio e l'acquisizione di competenze, perciò è avvantaggiato, intrinsecamente avvantaggiato rispetto ai colleghi della laurea triandale. Dal punto di vista normativo non abbiamo differenze di sorta, neanche come inquadramento economico, diciamo, una volta assunto non c'è una differenziazione da questo punto di vista. La differenziazione è che ha maggiore competenze acquisite negli anni universitari, perciò è più capace anche di fare bella figura durante i colloqui di votazione. Le richieste verso i tirocinanti, noi accogliamo volentieri i tirocinanti, in questa fase pandemica proprio apriamo domani a primo tirocinante dopo del 2020, facendogli i famosi test sierologico tampone, primissimi tirocinanti perché è stato un anno di chiusura quasi completa. I tirocinanti stanno nei nuclei e sono sempre affiancati da un educatore esperto per tutti, perciò tutti i turni di tirocinio che fanno, che vengono fatti perciò seguendo il turno di lavoro delle operatori, perciò faranno o 7-14 o 14-21, partecipano anche alle nostre equipe, in formato però silente, ovviamente non possono intervenire, però partecipano anche alle equipe, perciò si possono fare un'idea anche del funzionamento educativo e pedagogico, oltre che è il funzionamento della quotidianità. Ecco, io sono arrivato un po' in conclusione alla mia esposizione, vi lascio anche qualche riferimento, perciò potete trovarmi, pormi delle domande direttamente alla mia mail, oppure esplorare il sito della comunità Mamre dove trovate le varie aree, aree minori, disabili, anziani, io oggi mi sono concentrato su quella prevalente per ammere l'area della disabilità, ma c'è una comunità per minori che accoglie educatori professionali, anzi lì sono esclusivamente educatori socio-pedagogici, per esempio non ci sono educatori socio-sanitari, perché è una comunità educativa e è socio-assistenziale e non socio-sanitario. perciò ecco questi sono i miei riferimenti, ma adesso come vi avevo un po' promesso e spero di, come dire, avervi dato qualche spunto di riflessione, lascio alla vostra, così insomma, tutor Claudia Salvi un po' diciamo le sollecitazioni che possono provenire sia da lei che da voi e cercherò modestamente di dare qualche tipo di risposta. Per ora grazie. Grazie, grazie a lei dottor Garzetti, la ringrazio a nome mio, ma penso anche a nome degli studenti, della collega Elisa Bara che ci ha raggiunti in corsa durante l'evento. La ringrazio perché è stato un intervento molto chiaro, ma soprattutto ha fatto capire quanto al centro di tutto ci sia la persona ed è un po' quello che la laurea magistrale in progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane vuole far passare. Lei difficilmente passava di utenti, clienti, ma anche di semplice personale, semplice operatore, parlava spesso di persona, quindi fa vedere questo approccio listico e quest'ottica di persona quanto sia importante per Mamre. Mi è piaciuto molto vedere anche in relazione alla possibilità di sviluppo professionale all'interno del servizio quanto viene fatto per i vostri educatori, quindi tutto il percorso di affiancamento e tutte le equip che fate per fare in modo che le persone non si sentano sole. Quindi grazie davvero per questo suo intervento. La dottoressa Amato ha posto prima una domanda, non so se ha piacere a farla in prima persona, altrimenti la faccio senza difficoltà. Non abbiate timore, credo che il dottor Garzetti non abbia mai mangiato nessuno, almeno per fortuna non a distanza. Ah beh, è improbabile. Magari la leggo così rompo il ghiaccio io. La dottoressa Amato chiedeva se una sua collaborazione fosse possibile all'interno dei servizi di Mamre, visto che sta conseguendo un bachelor in pedagogia e ha anche un master in educazione alla salute. Noi valutiamo sempre le collaborazioni, ma è inteso come collaborazione di tipo lavorativo o per un percorso ancora di tirocinio? Non mi è chiaro questa dimensione della domanda. Io credo sia a livello lavorativo. Stava provando a parlare la dottoressa Amato, ma non la sentiamo. Proviamo a vedere se ha il microfono attivo. Antonella, se vuole rispondere. Ma sì, guardi, io dico semplicemente. Noi abbiamo delle collaborazioni con dei professionisti esterni, soprattutto nel campo delle competenze che non ci appartengono. Nel senso che perciò abbiamo professionisti in arte e terapia, teatro-terapia, musico-terapia, riabilitazione e questo. Facciamo tutto questo tipo di collaborazioni con attività che in questo momento qua, come dire, noi come educatori non siamo in grado di portare avanti. Non abbiamo consulenti pedagogici, diciamo, che fanno fuori dai turni. Abbiamo una consulenza psicologica, quella psicologa dell'associazione, che è anche un modello di formazione specifico, un master ABBA, che diciamo, nella disabilità adulta è molto relevante, oltre a comunicazione aumentativa alternativa, diciamo, abbiamo già dei sostegni interni che ci offrono questo. Mediamente le collaborazioni facciamo con quelle competenze che non abbiamo, ecco, diciamo. Ma questo anche per valorizzare, diciamo, i professionisti che vi lavorano, ovvero, cioè gli educatori, che sono tutte persone lavorate, che devono avere delle competenze e anche nel valutare, diciamo, le competenze specifiche anche dei coordinatori di nucleo. Ecco, perciò la nostra dimensione attualmente è così fatta. Ecco. Non so se adesso riuscite a sentirmi. Sì, Antonella, grazie. Perché ho avuto problemi col microfono, infatti mi sono perso un po' del discorso del dottor Garzetti, purtroppo, perché stavo sistemando il microfono. Comunque, ecco, il mio discorso appunto era lavorativo, ma sono interessata comunque ad una collaborazione professionale, anche con la partita IVA, ecco, per essere più specifici. La mia formazione, come ho scritto alla dottoressa Salvi, è sono un'infermiera, ho lavorato come infermiera, infatti ho visto socio-sanitario, oltre che educativo, per questo mi sono inserita. Poi sono una scrittrice, ho avuto esperienza di insegnamento con bambini, con ragazzi e con gli extracomunitari, perché ho fatto diversi percorsi. Poi, dopo la laurea come infermiera, ho fatto anche un master educazione alla salute e ora, da un'università straniera, perché ho 47 anni, ecco ve lo dico, quindi mi è stato valutato il mio percorso, che è stato variegato anche professionalmente, con il volontariato, con i lavori che facevo per conto mio, e questo bachelor è un riconoscimento, ecco, al percorso, anche lavorativo che ho fatto, in cui, e poi un curriculum, anche il percorso di studio, perché avevo dato anche la metà delle materie lettere moderne, quindi mi hanno valutato tutte le materie, me le hanno date, e sto preparando, sto ultimando una tesi in pedagogia. Ecco, io ormai l'avevo posto prima, mi state rispondendo adesso molto bene, così ho ascoltato tutto il discorso del dottor Gerzetti, è stato meglio. Io, per onestà, l'ho scritto subito, perché ho detto, magari, ecco, non è il mio ambito. Dico, potrebbe interessare, ecco, una situazione di questo tipo, che per sommi capi, ho detto un po' il mio curriculum. Guardi, la ringrazio per la domanda, in realtà, adesso, diciamo, l'organizzazione delle nostre unità d'offerta è, diciamo, suddivisa anche in settori, perciò il settore, per esempio, sanitario, è molto coperto dal punto di vista del personale, nel senso che abbiamo medici, infermieri, che tutelano, diciamo, giorno per giorno la salute degli ospiti, è necessario perché sono ospiti molto fragili. Perciò, in questo momento qua, un po', come dicevo, cerchiamo delle professionalità e cerchiamo delle collaborazioni, anche a partita IVA, con quelle competenze che noi non possediamo, che perciò non afferiscono direttamente al campo né della salute, né del, come dire, né della salute, né tanto meno della pedagogia, ma soprattutto nel campo, come dire, artistico, piuttosto che riabilitativo, ecco, vero e proprio. Piuttosto, diciamo, facciamo più fatica magari a trovare collaborazioni con l'ambito, anche se in questo momento qua, come dire, l'ambito medico, perché soprattutto questa fase pandemica, ormai i medici, fortunatamente i nostri infermieri ci sono tutti, ma, diciamo, molti sono stati dirottati nell'emergenza pandemica e perciò altri servizi come i nostri sono stati un po' sguarniti di personale sanitario, vero e proprio. Noi fortunatamente, in questo momento, posso dire di no, ecco, non abbiamo questa necessità. Grazie Antonella per essere intervenuta. Ho una domanda io, una curiosità, ci ha descritto molto bene le competenze e i profili richiesti all'interno dell'RSD. Volevo sapere se queste competenze fossero le medesime per i servizi relativi ai minori e a quelli degli anziani o se erano richieste delle competenze diverse. Allora, il settore minori è molto differente da quello della disabilità, nel senso che gli educatori sono la maggior parte, anche la numerosità degli educatori rispetto all'utenza è elevata della comunità educativa, per intenderci, e diciamo che sono tutti educatori socio-pedagogici, per intenderci, perciò le competenze richieste sono assolutamente diverse, i modelli pedagogici educativi sono diversi. L'unica cosa che conosco bene è che il funzionamento è simile, cioè, ovvero, la comunità educativa funziona sulle 24 ore, perciò gli educatori in questo caso fanno i turni e rispetto all'RSD dove i turni sono due mattina e pomeriggio fanno anche la notte. Ecco, questo sicuramente gli educatori e le educatrici prevalentemente sono quasi tutte donne, ragazze, giovani spesso fanno anche la notte, ecco, questo diciamo è un po' ci differenzia. Nel settore anziani invece la quantità di operatori è prevalentemente sanitaria o assistenziale e perciò i due centri diurni e la casa albergo sono poche le ore di animazione che vengono richieste, perciò non più che educatore di animatore e in questo caso ovviamente è un percorso che può essere fatto anche da educatore, attualmente la comunità affida a una cooperativa esterna, diciamo, queste funzioni educative all'interno dei centri diurni, ma parliamo di poche ore. Nelle comunità invece sociosanitari, che sono sette per intenderci, il personale è medesimo dell'RSD, i numeri cambiano, ecco, diciamo, il personale è per lo più sono educatori, educatori sociopedagogici o sociosanitari e non ci sono infermieri, fisioterapiste solo a prestazioni poche ore, non ci sono medici e perciò l'educatore ha, diciamo, spazi di azioni più ampi, più flessibilità, si occupa anche, come dire, della quotidianità più spiccia, della cucina, cucina assieme agli ospiti, le lavatrici, le cerette, tutto quello che attiene alla vita delle persone con disabilità, cioè è un po' la loro casa, perciò l'educatore è un modello, ma è anche, diciamo, colui che agevola la quotidianità e la vita delle persone, ecco, diciamo. Poi è più facile magari viverlo che spiegarlo, io capisco che non sia facilissimo, ecco, spiegarlo, però ho cercato il più possibile, insomma, vediamo, sto leggendo, prima ero in condivisione, lo schermo non usciva, adesso leggo anche le domande, vediamo. Grazie, sì. Daniele Tonon ha fatto delle domande. Un altro problema di connessione, se fate anche attività di case management su territori carattuali. Perfetto, allora per il case management non lo facciamo e diciamo anche sia il tema del case management, che per ora, dico la verità, è solo scritto sulla norma, io ho delle semplificazioni concrete. Nel mentre che arrivano altre domande, ecco, Daniele, piacere, buongiorno, finalmente, vedo un viso. Io do due indicazioni di massima di cos'è il case management, soprattutto nell'ambito dell'autismo, in Lombardia, perché della Lombardia si sta parlando. Dunque, dal 2015, con l'IGR 392, la collega mia ha chiesto di spiegare cosa... Ecco, mi scuso, ma il mio computer si era completamente impallato e sono riuscito a ricollegare, perciò ho perso qualche vostra e l'ultima informazione che mi sta dicendo, forse riguarda l'educatore, il ruolo dell'educatore. Esatto, stava parlando Daniele Tonon, che le ha posto la domanda sul case management, e si stava spiegando cosa fosse e il perché di questa sua domanda. Buongiorno, grazie. Sì, buongiorno. Mi scusi, è perché la perdita di connessione, ma ci sono adesso. Figuri, è molto comune di questi tempi. Quindi ho svolto il mio tirocinio presso una delle strutture che dal 2013, mi sembra, è deputata dalla regione Lombardia al case management della persona autistica. Quindi dal 2013 è istituita proprio come funzione. Diciamo che a differenza di un servizio residenziale, comunque un servizio di case management non ha carattere residenziale, appunto. Io ho scritto la mia tesi anche sull'argomento, ha comunque una funzione che secondo me si colloca a metà tra l'ambito pedagogico, l'ambito clinico-sanitario e l'ambito delle politiche pubbliche. Quindi è di sua natura epistemologica una funzione multidisciplinare, di accompagnamento, se si vuole. In pratica, una buona parte del lavoro di case management, per come l'ho svolto io, si svolge nelle diverse tavole rotonde, soprattutto con una funzione di mediazione. Ad esempio con i ragazzi di età scolare, la mediazione fra l'ambito, fra le esigenze della famiglia e la struttura della scuola, è una delle competenze fondamentali. La capacità, questo l'ho visto tantissimo, di rendere ciascuna parte della rete educativa concia del proprio ruolo e la valutazione anche del successo anche a livello clinico dei trattamenti riabilitativi che vengono proposti. Quindi come capisci c'è un po' di misto fra diverse competenze. Quindi mi chiedevo se Mamre si occupa anche di un lavoro di rete che non sia a carattere disidenziale. Ringrazio la domanda, anzi mi ha permesso di approfondire questo tema che conoscevo solo marginalmente. Però noi non svolgiamo questo tipo di funzione, ma per esempio, le faccio un esempio di persone che arrivano da noi se sono inviate dai servizi sociali e sociosanitari. Perciò c'è sempre un'equip operativa che accompagna l'utente per il suo progetto di vita e perciò mediamente il progetto di vita della persona è collocato in una dimensione dove l'ente pubblico, ovvero la SST e i comuni di residenza svolgono una funzione guida. E noi all'interno di questo percorso diciamo ci concentriamo sul modello residenziale perché mediamente la residenziale dell'RSD è totalizzante, nel senso che la persona non svolge funzioni altre, nelle comunità sociosanitarie invece la persona può avere più progetti. Gli ospiti delle comunità sociosanitarie per esempio possono anche frequentare centri di urli iperdisabili o comunità sociosanitarie o centri socioeducativi o servizi di formazione e autonomia e perciò diciamo in questo caso comunque la regia, la regia del progetto è di solito guida ente pubblico con i servizi deputati perciò servizio sociale o psicologa di riferimento ecco. Sì, quindi il progetto di, il rigia di progetto è l'ente pubblico. In questo caso nei nostri ospiti sì, diciamo essendo comunque, attenzione, ci sono servizi che sono acquistati da regione Lombardia e offerti sul territorio perché noi abbiamo a che fare con persone adulte che vivono in strutture residenziali per lo più. Poi c'è per esempio l'ambulatorio di comunicazione aumentativa alternativa, anche quello, però gli invia vengono da parte della neuropsichiatria infantile e gli operatori di questo servizio invece lavorano in rete, appunto, supervisionati dalla neuropsichiatria ma lavorano sia con la scuola che con la famiglia perché magari il bambino ha bisogno di ovviamente di pratichire la comunicazione aumentativa alternativa all'interno degli ambienti di vita, cioè non è un'astrazione, c'è un ambulatorio solo per la parte introduttiva, poi l'implementazione vera e propria che avviene negli ambienti di vita. Mi collego, grazie per la sua risposta, mi collego alla mia seconda domanda attraverso di questo con un esempio pragmatico. Magari Daniele, mi scusi se la interrompo, vorrei lasciare la parola anche a Elisa Bara, visto che il dottor Garzetti ha lasciato i suoi contatti per approfondire il discorso, magari sfrutterei questo canale preferenziale, se siete d'accordo. Per me sì. Vediamo se Elisa riesce a... Ditemi se adesso si sente. Benissimo. Chiaro e forte. Sì. Grazie. Grazie anche a Daniele Tonone, lo invitiamo davvero su esempi specifici, visto che abbiamo ancora cinque minuti e chiudiamo magari a entrare in contatto via mail diretto. Quindi grazie, l'obiettivo era questo insomma. Ringrazio anch'io il dottor Garzetti che avevo sentito telefonicamente tramite mail, lo ringrazio davvero per avere con estrema chiarezza e professionalità dato proprio una... illustrato i servizi, ma soprattutto aver declinato quali sono le funzioni e le competenze dell'educatore, provando anche a immaginare anche un possibile ingresso o come lavoratore, educatore o come tirocinante anche un nostro laureato magistrale in progettazione pedagogica, visto che il target prevalente di questa sessione di webinar sono studenti. frequentanti appunto il primo e il secondo anno della laurea magistrale, la maggior parte già con una laurea pregressa effettivamente. Grazie. Sono studenti dell'educazione, quindi grazie davvero per la disponibilità che ci ha offerto oggi. Per chiudere vorrei chiedere anche ai partecipanti, quindi ai nostri studenti della laurea magistrale che hanno anche con così poco tempo di preavviso, sono riusciti a iscriversi e a sfruttare questa che io considero una opportunità. Quindi poter conoscere e sentire e vedere cose i responsabili all'interno del contesto territoriale agiscono, svolgono nella loro attività professionale è estremamente importante per avere una maggiore consapevolezza di ciò che avviene, delle problematiche che devono affrontare e di cosa viene richiesto. E mi è piaciuto, e credo che i nostri studenti lo possano confermare, vedere questa comunanza di terminologia, di linguaggio, di intenti, di visioni, anche umanistica e pedagogica, che ci accomuna davvero molto. Credo che tutti abbiamo potuto oggi sentirci molto vicini a questo linguaggio e condivisione di questi approcci, di questi metodi anche educativi e formativi. Però vorrei chiedere cortesemente, anche in chat, se gli studenti possono lasciarci un'osservazione cosa gli ha colpiti oggi, un quesito che invece è rimasto aperto. Perché? Credo sia importante dare al dottor Garzetti un feedback che sia utile per capire anche così nell'adeguatezza di ciò che ci ha offerto oggi, in maniera proprio molto generosa, ma allo stesso tempo permettere anche a noi di capire quali nuovi dubbi sono emersi e su cosa potremmo lavorare anche in futuro. Quindi grazie ancora. Vediamo, chiedo cortesemente questo sforzo, almeno in chat, ai nostri studenti? Ci ha scritto Gloria. Sì. Quali sono le sedi sul livello territoriale? Quindi in quali zone territoriali sono distribuiti i vostri servizi? I vostri servizi sono in città, a Brescia. Ne abbiamo uno a San Polo e uno a quartiere Casazza. A quartiere Casazza abbiamo anche l'ambulatorio di comunicazione alimentativa alternativa. In Valtrompi abbiamo due servizi, l'RSD a Vile Carcina. A Vile Carcina è sempre una comunità sociosanitaria. A Clusana e di Iseo abbiamo comunità sociosanitaria per disabili. Un centro di urno per anziani. Una casa albergo sempre per anziani. Poi abbiamo nel territorio verso il Lago di Garda. A Desenzano abbiamo una comunità sociosanitaria. A Calcinato abbiamo due comunità sociosanitarie per disabili. Alloggi protetti un po' nella provincia. Allograto invece abbiamo la comunità SUSA che è la comunità educativa per minori. Perciò quella che si distingue maggiormente rispetto alle altre strutture. Questi sono prevalentemente i nostri servizi più rilevanti. Però vi invito se volete avere anche gli indirizzi. Uno volesse magari mandare il curriculum, leggere le carte dei servizi, potete tranquillamente farlo. Perciò il sito è comunità Mamre. Trovate le aree, perciò l'area anziani, l'area disabili, che è quella più nutrita, l'area minori. Trovate tutti i servizi e all'interno dei servizi, non solo con gli indirizzi. Trovate anche le carte dei servizi. Perciò diciamo lo studente, le persone che vuole presentare la sua domanda di lavoro, semplicemente approfondire o visitare il luogo. Ovviamente in momenti pandemici non siamo aperti, ma mediamente noi offriamo sempre l'accoglienza a chi desidera incontrarci e fa parte della nostra DNA. Perciò gli studenti possono orientarsi. Potete, come dire, al di là delle mie parole, oppure se volete un rapporto più individuale potete scrivermi, vi ho lasciato la mia mail e perciò da questo punto di vista vi posso cercare di rispondere e orientarvi in base a quello che conosco e so. Per quanto riguarda l'Università Cattolica sono grato dell'invito che ho ricevuto e mi rendo disponibile qualora in futuro si presentasse ancora un'occasione perché per noi avere a che fare con gli studenti è sempre utile, anche perché così magari una persona arriva da noi e ha le idee un po' più chiare per noi, perciò non è utile solo per gli studenti, ma è utile anche per le aziende. Esatto, grazie per questo scambio che appunto è uno dei nostri principali obiettivi e l'obiettivo anche di favorire l'incontro tra i servizi del territorio e gli studenti come potenziali poi educatori ed è la principale finalità proprio del Career Week. Quindi grazie. Attendo allora cortesemente, almeno in chat, come vi dicevo, un feedback perché abbiamo parlato di relazione, di valutazione, anche in una relazione, in un webinar a distanza, noi possiamo dare un'attenzione agli elementi della relazione attraverso i feedback che in chat possiamo lasciare. Quindi vi chiedo cortesemente, siamo in tanti, ancora collegati, in 83, quindi direi che qualche feedback può arrivare. Quindi vi invito a fare questo sforzo perché, io dico sempre, è il primo passo che ci fa capire la nostra abilità e capacità di stare in relazione e adeguandoci al contesto. Vogliamo anche mediato da un PC questa volta, ma questo ci ha chiesto, insomma, di stabilire una relazione e dare dei feedback. Così poi salutiamo anche tutti voi e vi ringraziamo per l'attenzione e la partecipazione. Benissimo. Daniele, grazie. Chiavezza nella progettazione dei servizi. Benissimo. Grazie. Qualcun altro cortesemente? Nicoletta. Ecco Nicoletta. Intervento interessante. Capire quali sono le aspettative di un colloquio, le competenze richieste. Grazie Nicoletta di avercelo dato come restituzione. È uno degli obiettivi del CariRuic, proprio questo. Grazie. Penso che vagano un po' in generale, non solo per, come dire, sono... Conosci le aspettative dell'azienda, penso che sia abbastanza importante perché si presenta nel mondo del lavoro, ecco. Poi, attualmente io devo dire la verità, c'è parecchia mobilità, perciò gli educatori in questa fase non fanno troppa fatica a trovare una collocazione lavorativa. Poi, nella mia esperienza, trovo è stato anche fasi un po' più complicate in cui avevo tanti curriculum e pochi posti. Ma adesso, devo dire la verità, di educatori a spazio non ne incontro molti, ecco. Vuol dire che questo, penso per voi, sia importante aver scelto un ambito educativo che vi dia uno sbocco lavorativo, ecco. Esatto. Ecco Sabrina. Bene, si stanno... Alessia, grazie. La parte più interessante è stata la spiegazione del colloquio, un'iniziativa in poste, parla in maniera così chiara. Bene? Esatto, concordo. Ho apprezzato l'intervento, preciso, esattivo, interessante, grazie molte. Bene, grazie anche a voi. Grazie a voi. Anche a noi fa piacere perché, insomma, cerchiamo il più possibile di darvi, insomma, dei webinar, creare degli incontri con delle persone che sono responsabili dei servizi, che possano esservi proprio d'aiuto nel vostro percorso, mi viene da dire, di consapevolezza e riflessivo, oltre che conoscitivo. Quindi, grazie. Grazie. Ecco Luca. Concreta. Le presentazioni a concretezza, ti dice Luca. Bene, grazie. Allora, a me chiara, grazie Silvia. Bene, vediamo se arriva ancora qualcuno, altrimenti già questi feedback per noi sono estremamente importanti e ci fanno capire che, possiamo dire, gli obiettivi del nostro incontro siano stati raggiunti. avremo modo comunque con i nostri studenti di riprendere durante i nostri colloqui primali, incontri di tirocinio, proprio le valutazioni, le riflessioni, e non solo a caldo, ma anche poi ragionate o comunque guidate da alcuni criteri di valutazione che proporremo. Quindi, grazie. Grazie anche a Cristina. Grazie. Bene. La dimensione relazionale. Benissimo. Grazie. Direi allora che con pochi minuti di ritardo possiamo allora salutarci. Attendiamo allora cortesemente magari le slide che ha presentato oggi. Sì, dire giro, già oggi in PDF. Grazie, così poi le posso inoltrare agli studenti. Molto bene. Grazie ancora a tutti, anche dei feedback che ancora ci state fornendo. Bene, grazie. Il nostro appuntamento, lo dico agli studenti della laurea magistrale, quello specifico per voi è venerdì alle 11.30, con la fondazione Richie Dei. Lì parleremo più dell'aspetto legato anche alla funzione della gestione delle risorse umane all'interno di una struttura ospedaliera. Quindi, il prossimo appuntamento per noi sarà questo. Grazie, grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata davvero. Arrivederci a presto. Grazie mille a voi. Arrivederci. Arrivederci.